Musica Organizzata dalla ST Calzatorieri Monte Garenaro Marini Silvano, giovedì 6 settembre 2018 presso gli impianti sportivi La Croce di Monte Garenaro Andrà in scena il dodicesimo Memorial Maurizio Barbante, primo trofeo Marco Gismondi, gara ciclistica per giovanissimi donne allieve, esordienti maschili e femminili Un programma tipo pista per quanto riguarda G1, G2, G3, G4, G5, G6 esordienti donne, esordienti uomini, esordienti donne e uomini abbiamo detto, allievi uomini e donne e individuale appunto Il percorso naturalmente ricavato all'interno degli impianti sportivi per quanto riguarda la pista di atletica leggera che ospiterà questa bellissima manifestazione Che prenderà il via alle ore 16.30 sulla pista dello stadio La Croce della comunale proprio dello stadio di calcio di Monte Garenaro Il ritrovo è stato vissato alle ore 14.30 alla partenza alle 16.30 per il dodicesimo Memorial Maurizio Barbante, primo trofeo Marco Gismondi Il ritrovo è un'escrizio a un'escrizio a un'escrizio per un'escrizio a un'escrizio per la visione Il ritrovo è un'escrizio e un'escrizio per i farvi